Siamo la prima forza politica in Italia, siamo il popolo della libertà. Vogliamo portare anche nel tuo comune il governo del fare, il nostro buon governo con il quale in un anno abbiamo liberato Napoli e la campagna dai rifiuti, abbiamo mantenuto in Italia la nostra compagnia di bandiera, abbiamo garantito che nessuna banca sarebbe fallita, abbiamo difeso il risparmio delle famiglie ed abbiamo incentivato il credito alle imprese, abbiamo assicurato una protezione ai più deboli e a chi ha perso il proprio lavoro, abbiamo avviato la ricostruzione dell'Abruzzo, abbiamo realizzato la riforma del processo civile, abbiamo iniziato tutta una serie di importanti riforme a partire dalla università e dalla riorganizzazione e dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ora anche nel tuo comune puoi insediare un governo efficiente, concreto, un governo onesto che farà di tutto per farti pagare meno imposte. Il 6 o il 7 giugno vota per questo governo, vota per noi ma vota per te, vota per il popolo della libertà.